Buongiorno youtubers, bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video, non so se definirlo beauty o comunque diciamo molto da donna, quindi che riguarda il mondo femminile o chi lo sa, magari anche qualche maschio è interessato, almeno lo spero. Comunque, come avrete detto dal titolo, riguarderà la mia borsa, quindi sarà uno what's in my bag. Non l'ho mai fatto questo video, anche se credo che sia insieme ai room tour, credo che sia il mio video preferito da Guambara su YouTube e quindi non l'ho mai fatto perché non avevo una borsa degna di essere vista in video. Non che io non abbia delle belle borse, ma non ero mai soddisfatta perché desideravo tantissimo una borsa nera, che andasse bene con tutto, semi elegante, come insomma è il mio stile, quindi si abbinasse bene al mio stile e le mie borse sono per lo più estive, semisportive, non so come definirla. Comunque avevo proprio voglia di comprare una borsa se finalmente l'ho trovata, l'ho comprata da Accessorize, l'ho pagata 30, era in offerta e è questa qui, era l'ultima tra l'altro e ci andrebbe anche la tracolla, ma non c'era. Penso che qualcuno l'abbia rubata e comunque niente, non me l'hanno data, mi hanno fatto un po' di sconto quindi sullo sconto mi hanno fatto ancora tipo 2 euro il sconto, vabbè. Comunque io non la uso più di tanto la tracolla se la usavo, la usavo comunque a spalla ma lunga, quindi magari adesso cerco una tracolla, nel caso appunto magari con il parka credo che stia molto bene su una spalla tenuta lunga, però appunto vediamo se la trovo, altrimenti io la compro a poco prezzo oppure niente, non la metto. Comunque questa è la borsa, è completamente nera con i lacci dorati cioè i lacci, come si dice? Non la texture, vabbè, comunque avete capito con i dettagli dorati e ha una cerniera. La cosa non tanto carina è che appunto i bordi non sono chiusi però appunto non importa, insomma sono tutte così queste borse io faccio sempre tantissima attenzione, da quando studio fuori città faccio sempre tantissima attenzione quando tengo la borsa, quando cammino, eccetera, quindi speriamo che non succeda niente e comunque, andando ad aprirla, allora, troviamo, prima di tutto ci sarebbe il mio cellulare ma l'ho tenuto fuori perché intanto sono in casa oggi, quindi non è che tengo il cellulare in borsa anzi ce l'ho sempre con me, cioè ovunque vada c'è il mio cellulare, non posso stare senza il cellulare, lo so però comunque questo è, appena si accende il mio cellulare, c'è una notifica di Facebook la foto delle 3 girls di Friends, perché sono di nuovo in fissa con Friends e la mia cover di Taylor Swift, regalo di Natale del mio fidanzato comunque è un Galaxy S3 e ve l'avevo già mostrato nell'altro video, quello sulle app quindi, niente, penso che farò anche un what's in my phone appena l'ho aggiusto un po' poi abbiamo, allora, il mio beauty case questa è una make-up bag che mi hanno dato dai brochet come regalo perché sono andata a fare degli acquisti, ho portato il buono e la tessera non che vada a fare sempre spesa dai brochet, però sotto Natale così vado sempre perché ci sono sempre delle idee carinissime che costano poco e secondo me è sempre apprezzato, per madonna, le cose da bagno sono sempre apprezzate perché comunque si usano e appunto mi hanno dato questa insieme a anche un'altra dorata che però è piena di glitter e brillantini e li perde sicuramente in borsa quindi questa è molto più comoda e mi serviva, tra l'altro, perché avevo tutte vecchie, brutte e questa qui è perfetta dentro tengo un duodorante mini se per caso sono in giro tutto il giorno così o voglia di rinfrescarmi un po', il duodorante mini fa sempre bene un mascara, questo non mi piace per niente come mascara ne ho un altro anche però se per caso mi dimentico di truccarmi cioè non è che mi dimentico, però non ho avuto tempo di truccarmi utilizzo questo, lo prendo così quindi vabbè uno specchietto che ho da secoli e adoro è molto in stile anni 50 appunto con, sapete, i poster anni 50 la Mary Moreau, eccetera un salva slip che non vi farò vedere e un burro di cacao ah, e anche un moment perché non si sa mai nella vita non tengo i trucchi perché fondamentalmente se non ho voglia di truccarmi poi non ho voglia di truccarmi neanche fuori casa e se per caso non ho avuto il tempo ma ho i metti di truccarmi fuori casa me li metto nella trousse quindi, cioè, la faccio per me di uscire poi abbiamo i miei occhiali che non mi ci stavano mai nelle altre borse in questa borsa che è gigante ma in realtà, cioè, non sembra gigante però in realtà ci sta tantissima roba è in formato A4, quindi ci stanno anche i lembri di scuola comunque tengo la mia custodia con i miei occhiali da sole che sono sporchissimi perché sono a specchio e quindi evito di farlo vedere poi c'è il mio portafoglio che è vecchissimo cioè, vecchissimo no è della quarta superiore quindi un paio di anni fa l'ho preso in Francia in un mercatino l'ho pagato 10 euro ed è veramente fantastico mi piace tantissimo perché è nero sempre qui i dettagli dorati quindi richiama tantissimo la borsa e ci sta tantissima, tantissima, tantissima roba io ho documenti, scontrini monete c'è il posto per la moneta che non esce così veramente c'è qualsiasi, qualsiasi roba e mi piace tantissimo veramente non voglio cambiarlo cioè, se mi si rompe mi piange il cuore perché io veramente lo adoro poi ho salviettine multiuso che sono tra l'altro quasi finite e diciamo che le ho volute comprare perché andando su e giù a Torino appunto salgo sul treno poi prendo l'autobus e poi sto tutto il giorno in università magari faccio una merendina metà rettinata e quindi veramente mi dava tantissimo facilità arrivare all'università con le mani sporche di treno e autobus che poi magari me le mettevo in bocca toccavo le penne poi mi mettevo in bocca le penne insomma mi dava veramente un fastidio cane e il posto che comprare l'igienizzante ho comprato queste mia mamma mi ha comprato queste e sono comode utili adesso sono quasi finite però insomma diventano abbastanza sottili quindi va bene e insieme a queste ho anche le salvettine igienizzanti intime sono nuove non le ho ancora utilizzate però effettivamente mia mamma ha fatto bene a comprarmene perché non si sa mai nella vita siamo donne e quindi bettymine succede una brutta cosa e noi non ce ne accorgiamo meglio avere le salvettine intime poi ho i bigliali del teatro stabile di Torino che al momento ho qua dentro perché le ho usate sabato e di solito stanno fuori però appunto stanno andando a vedere uno spettacolo e quindi ho l'abbonamento qua mi piace tantissimo perché ha questa bustina con la scritta teatro stabile e mi piace tantissimo veramente adoro questo pacchetto diciamo e non che io sia una tipa da andare a teatro perché sinceramente non sono un'appassionata di teatro però appunto c'era la possibilità c'era lo sconto universitario in più lo sconto del dance e quindi niente ho fatto l'abbonamento e comunque sono contenta perché non sono riuscita ad andare a tutti gli spettacoli anzi però alla fine sono contenta di averlo fatto perché qualcuno l'ho visto e a un prezzo molto 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 ridotto fate conto che ho pagato il biglietto nemmeno la metà un terzo di quello che costava quindi fantastico veramente sono contentissima di essere andata poi ho allora questa è la mia agendina che tengo ma senza uno scopo preciso dentro ci sono praticamente l'ho pagata un euro da Tiger con la penna anche proprio e sopra c'è scritto you look lovely today che ho inspirational quote e dentro dentro tengo questo che cos'è esattamente ho niente appunti sulle yeki candles da prendere comunque tengo le mie idee per il video le mie idee per i blog post e diciamo magari se ho in mente un qualcosa da da scrivere o non lo so qualsiasi cosa mi venga in mente quando sono in giro io magari la posto che appuntamolo sul cellulare che poi magari me lo dimentico me lo appunto qua e ogni tanto poi mi riguardo le cose se sono accorto di idee per i video eccetera mi riguardo i miei appunti e mi piace tantissimo l'idea di tenere comunque un'agendina che poi non è un'agenda un quadernino diciamo così un porta appunti in borsa perché non lo so l'idea di tirarlo fuori e usarlo al posto che usare il telefono che abbiamo sempre in mano mi piace l'idea di tenermela non so qual è il motivo però sono contenta di averla dietro ombrello vecchissimo rotto no rotto no però molto rovinato lilla non so se si vede ho le luci blu qua perché non ho ancora tolto le luci di Natale non penso che le toglierò mai perché sono fantastiche qua sopra fanno molto tumblr la mia stanza mi piace tantissimo con queste luci comunque il mio ombrello lilla non ho intenzione di cambiarlo perché è semplice fatto che funziona ancora si apre ancora traballa un po' quando è aperto però va bene così poi fazzoletti immancabili io sono sempre raffrettata poi in questo periodo adesso c'è di nuovo l'allergia cioè praticamente io che sono allergica al polline alle graminacee ho l'allergia un mese sì un mese no perché al polline alle graminacee devono essere collegate altre allergie che io non conosco ultima cosa ho il carica batteria per il cellulare quello portatile e personalmente vi dico che fa schifo l'ho preso su amazon e l'ha preso su amazon mio padre a 18 euro ed è stato un acquisto veramente cioè dei soldi buttati secondo me perché io non lo uso mai questa cosa siccome non è che non mi piace l'idea di avere un carica batteria portatile anzi secondo me è fantastica l'idea di avere un carica batteria portatile perché io stando in un'altra città quando sono in università di solito non lo uso proprio però stando in un'altra città quando avevo il cellulare scarico era fantastica l'idea di dire ok adesso collego il carica batteria e e ho magari un 20% 30% in più di carica ecco questo carica batteria non fa un tubo perché al posto che caricare il telefono cioè diciamo che rallenta un po' il suo scaricamento se così vogliamo definirlo in termini sbagliati comunque io pensavo che tenendo questo in carica il cellulare si caricasse come tutti i caricabatterie normali invece questo caricabatterie serve solo un po' a rallentare lo scaricamento della batteria del cellulare e la cosa mi da cioè mi sembra assurda perché io l'ho detto a mio padre e mia padre mi ha detto che serve solo per cioè se il cellulare è scarico tu colleghi questo e questo va con la batteria del cellulare il problema è che la batteria del cellulare anche se questo è collegato si scarica se io lo utilizzo e se non lo utilizzo resta ferma al che ne so al 10-20% quant'è quindi cioè in pratica io non assolutamente se vedete questo caricabatterie qua io non so se sono io che sono sfigata e l'ho comprato così l'unico che c'era però veramente non compratelo spendete i soldi in un altro caricabatterie perché io veramente mio padre mi ha detto che i suoi colleghi lo usano che mi piace tantissimo secondo me fa schifo e quindi non so veramente come cioè gliel'ho detto anche a mio padre lui dice che si utilizza così e io vabbè ok però spero di avervi tenuto un po' di compagnia io come vi ho già detto adoro questo tipo di video quindi mi sono divertita anche a registrarlo ci sono tante cose che vorrei mettere con la mia borsa oltre a questi ci sarebbero anche le chiavi di casa in realtà ma le chiavi di casa adesso stanno a casa del mio ragazzo che mi sono dimenticata e quindi me le porterà appena ci vediamo ci sono tante cose che vorrei mettere nella mia borsa ma in realtà questo è tutto ciò che mi serve perché non lo so alla fine tengo abbastanza l'essenziale io e le cuffiette tengo sempre le cuffiette io però non le ho adesso perché tutte le mie cuffie si sono rotte io non so perché ma le mie cuffie si rompono sempre di solito la gente distrugge tipo gli ombrelli io questo ombrello ce l'ho da anni distruggo le cuffie non so come cioè non si sente più proprio da un giorno all'altro smette di sentirsi la musica tramite le cuffie quindi veramente devo comprare un paio di cuffie e le compro sempre proprio quelle più scrause che ci sono intanto so che se sono scrause o non lo sono si rompono quindi va bene così vi ricordo che nei miei contatti c'è anche il mio blog che sto aggiornando sto facendo la brava lo sto aggiornando settimanalmente e lì trovate appunto anche lì cose random cose di beauty cose sul cinema e nulla spero che apprezzate anche quello un po' di supporto al mio canale e trovate tutti i miei link tutti i miei social non c'è facebook per me è facebook tanto non vi accetterei l'amicizia essendo proprio caino e gentile chi lo sa magari un giorno aprirò una pagina o farò il tasto segui però per adesso niente lasciamolo lasciamolo da parte facebook e nulla quindi ci vediamo nel prossimo video un po' di